Qui sono i sistemi locali del lavoro. Sulla strada della coesione istituzionale che si trasformerà in coesione anche sociale. Unica strada per garantire un futuro di sviluppo sfruttando la nuova grande opportunità che consentirà di intercettare risorse europee per la realizzazione di progetti finalizzati alla risoluzione delle problematiche individuate anche dal Cresme e che consentiranno il miglioramento della qualità della vita nell'area nord della provincia di Salerno. Unità, coesione e rapidità di azione per rispettare la tempistica è quello di cui dovranno farsi carico i 13 sindaci dell'agro. Dicono di essere già sulla buona strada. Direi vero c'è una sinergia tra i sindaci e tra i territori davvero impressionante. Lo vediamo anche su tante misure, su tante iniziative. Poi questa è un'opportunità. Opportunità che questo territorio non può perdere sia in termini di regione campania, per un governatore che sta impiegando tanto qui, ma anche in termini di recovery fund e tutto quello che i fondi di coesione e tutto il momento, che è un momento particolare, sicuramente sarà opportuno farci trovare appunto pronti. Emerge chiarissima l'emergenza sociale dei nostri territori e l'impossibilità di far fronte a questa emergenza sociale con le risorse proprie dei vari enti. Se noi ragioniamo in termini del nostro piano di zona, ma vale anche per gli altri, le risorse che un piano di zona spende per le politiche sociali dei propri territori equivalgono più o meno al 25% di quello che viene speso. Vuol dire che l'altro 75% viene di provenienza di altre fonti finanziarie. L'Unione Europea, le fonti nazionali, le fonti regionali. Questo che cosa significa? Bisogna avere la capacità progettuale, la capacità di programmare, di prevedere forme di intervento a sostegno delle aree emarginate dei nostri territori. Perché è inutile dire, non è un trend che va a rientrare, è un trend che va ad allargarsi. Io credo di avere buona memoria storica di quello che spendevano i piani di zona nel 2011, 2012, 2013, quando io sono arrivato a fare il sito, che è quello che spendono oggi i piani di zona. Quello che viene fuori dallo studio fatto dal Cresme, che è stato presentato oggi come atto, come dire, preliminare al lavoro che dobbiamo fare, è sicuramente prioritario. Viene fuori che siamo una vera e propria area metropolitana, una vera e propria città metropolitana. L'agroncino sarnese, anche lo studio dei flussi demografici, è praticamente lo stesso per ogni comune, a parte piccolissime differenze, ma sostanzialmente l'aspetto sociologico e economico è lo stesso.